Dopo 44 giorni dall'azzeramento della giunta regionale che ha causato l'uscita di scena dell'Udc di Cuffaro, il presidente della regione Raffaele Lombardo ha dato il via al governo BIS assegnando le deleghe. Tante le novità, l'agricoltura è stata assegnata a Michele Cimino, già assessore al bilancio fedelissimo di Gianfranco Miccichè, come di Tibufardeci che lascia il turismo per occuparsi di cooperazione, commercio e pesca, assessorato gestito finora da Roberto Di Mauro. Per l'assessore grigentino dell'MPA adesso arriva la delega al bilancio. Di beni culturali si occuperà invece Nicola Leanza, imbarcato in Extremis nel Lombardo BIS. L'assessorato alla famiglia sarà guidato dal magistrato Caterina Chinnici, figlia di Rocco, il giudice assassinato dalla mafia. Marco Venturi, già presidente dei giovani industriali, amministerà l'assessorato all'industria. I lavori pubblici sono stati assegnati ad Antonino Beninati, indicato dal ministro Angelino Alfano. Di lavoro e formazione professionale si occuperà invece l'agrigentino ex-AN Luigi Gentile, che lascia i lavori pubblici. La sanità resta invece all'ex PM Massimo Russo. Il territorio e l'ambiente vanno invece a Mario Milone, PDL, ex vice sindaco al comune di Palermo. Il turismo torna dopo anni sotto la gestione di Nino Strano, ex senatore Finiano. Dalla giunta esce invece Giuseppe Sorbello dell'MPA. guidava il territorio e l'ambiente ma ha scelto di rimanere sindaco di Melilli dopo che l'Arsa ha sancito l'incompatibilità tra le due cariche. Da oggi pertanto il Lombardo Bis può mettersi subito al lavoro. Se alla regione tutto è stato messo a posto, alla provincia regionale di Agrigento bisognerà attendere lunedì prossimo quando il presidente Dorsi presenterà la redistribuzione delle deleghe. Nessun assessore andrà fuori, assicurato Dorsi, e verranno rispettati i vecchi equilibri dei partiti. Dopo l'approvazione del bilancio invece dovrebbe concretizzarsi il rimpasto alla giunta comunale di Agrigento. In discrezioni parlano di quattro assessori confermati, mentre gli altri andrebbero rispettivamente tre al PDL, uno all'UDC e due al Partito Democratico, di cui uno alla corrente dell'ambientalista Giuseppe Arnone. Ma per avere le certezze bisognerà in questo caso attendere ancora alcuni giorni.